Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ma sapete che ero convinto di aver già fatto la reaction alle giocate di Seru Ghirassi? Ero convintissimo di averla fatto lo scorso anno, la scorsa estate, perché è un giocatore che era stato già accostato al Milan. Invece no, mi sono confuso con OpenDA. OpenDA l'ho fatto mentre Ghirassi mi mancava. E potevo non fare la reaction a Ghirassi? Volendo sì, però ci tenevo a farla. Ovviamente lasciate un like ragazzi se pensate che invece potevo tranquillamente farne a meno. Iscrivetevi al canale e poi mi raccomando controllate, cioè lasciate un commento dicendomi cosa ne pensate di Seru Ghirassi. La prima cosa che mi viene da dire ragazzi è che ha un nome che è perfetto per Lanzoni, lo speaker del Milan, qualora dovesse mai arrivare e qualora dovesse mai segnare. Ha segnato col numero 9, Seru Ghirassi. Si presta, si presta perfettamente. Minchiate a parte signori, andiamo nella sua pagina Wikipedia. Vediamo un attimino qualche informazione, cerchiamo di conoscerlo un po' meglio. Seru Ghirassi, nato nel 1996, quindi è nel fior fior della sua carriera. Quindi avrà 28 anni, sì, 28 anni compiuti. Calciatore francese naturalizzato guineano, attaccante dello Stoccarda e della nazionale guineana. C'è da dire ragazzi che quest'anno ha fatto una stagione clamorosa. Già lo scorso anno si era messo in mostra, infatti tante squadre erano interessate a lui. Però quest'anno si è letteralmente preso lo Stoccarda, se l'è messo sulle spalle e l'ha portato praticamente in Champions League. In virtù dei suoi tantissimi gol che adesso andiamo a vedere insieme. Guardate qua, 28 partite signori, 28 gol. Se poi consideriamo anche i due gol fatti in Coppa in due partite, arriviamo a 30 partite e 30 gol stagionali. Quindi veramente tanta roba. Lo scorso anno invece in tutto aveva fatto 24 partite, 12 gol in campionata e 4 partite e 2 gol in Coppa. La stagione prima ancora era stata in Francia, nel Rennes aveva fatto 38 partite e 9 gol e 27 partite e 10 gol. Quindi già sta cosa che è passato da un campionato all'altro e ha mantenuto comunque i suoi standard per quanto riguarda i gol, fa ben sperare. Quindi è uno che si adatta bene, forse chi lo sa, ai campionati. Speriamo che lo stesso accada anche nel campionato italiano perché è ok, la Liga è quello che è. Però la Bundesliga, ragazzi, è una competizione, è un campionato assolutamente di tutto rispetto dove non è facile fare bene. Lui, insomma, 28 gol in 28 partite, porca vacca, tanta roba. Detto questo, andiamo nella sua... Eh, voglio spoilerarvi perché l'avevo già preparata questa... Tra, la cosa che ci interessa di più qual è questa? Quella degli... Cronaca gol? No, cronaca infortuni, signori. Ok, la sto guardando adesso per la prima volta perché ho selezionato la pagina prima per preparare il video, ma poi non l'ho guardata. Danno al menisco, benissimo. Questo però nel 2017, nel frattempo, l'avrà sistemato sto menisco, sicuramente sì. Ha saltato 5 partite, poi problema muscolare. Ah, vedi, già in ottica mina potrebbe essere interessante. 3 partite saltate. Ritardo di condizione, 8 partite saltate. Problema muscolare, benissimo. Infortuni alle dita dei piedi, problemi alla caviglia, raffreddore, operazione alla caviglia, ritardo di condizioni. Perché è sempre ritardo di condizioni, non si capisce? Infortuni all'articolazione della caviglia, malato, così. Questo qua è il classico certificato medico mandato a cazzo. Cos'hai? Niente, scrivi malato, malato. Infortuni agli adduttori, infortuni alla coscia, stiramento alla coscia, problemi di stomaco, non meglio identificati. Peraltro, 5 giorni di problemi di stomaco, che, insomma, tradotti significa cacarella, sicuramente, sono convinto. Detto questo, signori, andiamo a vedere il suo profilo. Eccolo qua. Seru, Ghirassi, valore di mercato, 40 milioni di euro. Non so se dalla grafica si vede. E vabbè, qui, qui ve lo sposto brutalmente adesso, 40... Ah, sono bloccato io, benissimo. Aspettate che mi sblocco subito. Eccomi qua, ok. Dicevo, 40 milioni di euro, ok. È ovvio, ragazzi, che, come ben saprete, come vi ho già detto, ma come avrete già letto in tutti i siti sportivi e quant'altro, il dottor Seru Ghirassi ha una clausola recissoria da 17,5 milioni di euro, che rendono questo giocatore appetibile più che mai, ovviamente non solo per il Milan, ma per tutti i club. È alto 1,87, quindi un bel Marcantonio, gioca come punta centrale, volendo anche come alla sinistra, ma è normale che al Milan serve la punta centrale. Scadenza del contratto, 30 giugno 2026, ma chi se ne frega, tanto comunque, c'è quella clausola che, volendo, potrebbe essere esercitata. Il suo valore di mercato, ovviamente, è passato da 10 milioni nel 2022 agli attuali 40 milioni di euro. È normale, ragazzi, che anche solo per un discorso economico, prendere un giocatore che vale 40 milioni di euro, a 17 milioni di euro e mezzo, è un affare, anche solo per questo. Comunque, direi di andare a vedere le sue giocate più belle. Le commentiamo insieme, come sempre. L'attesa è finita, si comincia. Numero 9 per Ghirassi. Ok. Sputacchio a terra. Eccolo qui. Attenzione, Ghirassi allarga. Ridagliala Ghirassi. Ah, ok. Pensavo fosse un dai e vai, invece no. L'altruismo di Ghirassi, che qui la mette di testa. Bravo che è stato qui. Qui parte dalla fascia. Ok, non fa nulla. Qui prende pa... Dribbling, fallo, fallo netto. Ghirassi qui la passa? No, tira, giustamente. È un bomber e i bomber tirano in porta. Qui esterno, molto interessante. Qui stoppa la palla. E l'appoggia, l'appoggia a Pulisic, che sbaglia la conclusione. Qui tiro dalla distanza, non bellissimo. Bella questa sponda, il suo compagno. Possiamo dire, ragazzi, che qui sembrava quasi, come dire, una giocata tra Ghirassi... Non questa, è questa. Tra Ghirassi e Zirzè. Vedete? Il compagno che cicca la palla. C'ha questo look un po' alla Zirzè, no? Chi lo sa? Chi lo sa che magari possono anche venire entrambi? Ghirassi l'appoggia per Zirzè! Cicca però la palla. Qui torna dietro e riesce ad andarsene molto bene. Qui la passa all'altruismo di Ghirassi. Ah no, quella al centro, scusate. Il cinismo di Ghirassi, allora. Qui Ghirassi, Ghirassi. Si gira molto bene. Ma ci sono gol di quest'anno? Sono di quest'anno questi gol? Eh, pubblicità. Ma che palla questa pubblicità, zio caro? Che palla questa pubblicità. So già che ora molti di voi diranno Eh Dani, hai preso il video più brutto. Io sempre quello più brutto becco, secondo voi. Sempre quello più brutto. Torniamo a vedere le giocate di Ghirassi, signori. Esterno. Molto bello. Qui cerca lo spazio per il tiro, invece poi la passa. Inghietreggia tanto Ghirassi. Uh, come l'allarga qui. Ghirassi, uno, due. Ama fare le sponde. Quindi ricorda anche Giroud con questi tocchettini. Allora, si abbassa molto a recuperare palla. Questo va detto. Qui la prende, allarga. Ah, lui ama allargare. Appena prende la palla, allarga. Doppio passo e allarga. Qui cosa fa? Tira o allarga? Allarga, giustamente. Come allarga lui, signori, non allarga nessuno. Qui spesso sta partendo dalla sinistra. Avete visto comunque, ragazzi, come si abbassa? Fa un lavoro di sponda. Si abbassa, prende palla e allarga. Qui la stoppa molto bene. Si conquista un fallo. Qui, cosa fa? Meglio che... Era meglio se l'allargava qui. Vabbè, gira sì, niente. Qua non gli sarà mai uscito il cross. Qui fallo. Diciamo che questo suo fisico lo può... Minchia, che è bolide qui. Lo porta spesso a subire falli. Io che ho la sua stessa condizione fisica posso confermare che nella YouTuber League sono costretti spesso a farmi fallo per fermarmi. Qui se ne va fallo. Diciamo che protegge molto bene la palla. Ma qui bravo, ha perso il tempo, poi la recupera. Qui il tiro velenoso di Ghirassi. Qui lo scavettino di Ghirassi. Ma che bello questo scavettino. Dunque spesso ha questo controllo a seguire che già mi sta facendo impazzire. Allarga. Bravo Ghirassi. Ghirassi, l'uomo che allarga. Possiamo fare tipo un trailer alla macchia capatonda. Qui la mette all'angolino. Tanta roba. Ghirassi in mezzo a due. Recupera palla. È allarga. Qui cosa? Qual è? Qui aiuto in difesa. Qui si inserisce. Tapping vincente. Assist di Zirze. Gol di Ghirassi. Qui bel. Questa è bellissima. Questa è una delle giocate più belle che ha fatto Siena Dora. Con lo scavettino è riuscito a dare la prova. Avete visto ragazzi questo movimento quante volte lo fa? Questo qui intendo. È questo. Cioè stop a seguire. Lui già con lo stop indirizza la palla e riesce a deludere l'intervento dell'avversario. Qui freddissimo Ghirassi. Qui la poggia per Zirze questa volta. Uscia. Non sbaglia. Milan in vantaggio. Qui è sulla fascia. La butta al centro. Mamma mia. Qui no. Qui male male male. Qui la conclusione è velenosa. Qui si abbassa tantissimo. Qui ha recuperato la palla. Qui era il bianco. Era il bianco. Maglietta bianca che ha recuperato la palla. Qui non si capisce cosa ha fatto. Qui grande cuore. Grande recupero. Di Ghirassi. Qui vedete. Fa sempre sta roba ragazzi. Incredibile. Stop a seguire. Spesso alla sua sinistra. Usa tanto anche l'esterno. Qui spazza via. Che bello questo affinto. Che bello questo affinto. Dicevo grande. Come dire. Gran lavoro anche difensivo per Ghirassi. Qui allarga. Cioè esce dalla sua zona di comfort. Spalla la porta e allarga. Qui la finta. Qui se non allarghi non sei tu. Ok. Qui doppia finta. Fino a se stessa. Qui in mezzo a quattro se ne va. Non c'era fallo. Secondo me qui. Qui allarga. Perché giustamente ogni tanto bisogna allargare quella palla. Qui prende la palla. Cerca di farsi fare fallo. E ci riesce. Bravo. Ghirassi. Doppio passo. Fallo. Assolutamente. Qui fa. Riceve. Passa la palla a zirze. Non sapremo mai se ha segnato. Qui finta. Doppia finta. Questo sembrava un gol di Ibra con l'Ajax. Non so se ve lo ricordate. Questa finta continua. Qui spazza via. Spazza via. Quindi la sua altezza la sfrutta anche in fase difensiva. Qui allarga. Allarga signore. È la parola più usata di questo video. Dunque a parte tutto ragazzi. È un giocatore sicuramente interessante. Vi dico la verità. Io non seguo tanto la Bundesliga. Quindi non vi so dire poi all'atto pratico che giocatore è. I numeri secondo me alle volte è meglio non prendere in considerazione. Però insomma 30 gol in 30 partite qualcosa significherà. Il fiuto per il gol ce l'avrà. Poi vi ripeto. 30 partite in 30 gol in Bundesliga. Non in serie B serba per intenderci no? Quindi questa roba qua mi fa ben sperare. Però come sempre se qualcuno di voi sa di più di Ghirassi. Per chi è appassionato di Bundesliga. O addirittura è tifoso dello Stoccarda. Uh la ruleta. La ruleta. La veronica di Ghirassi. Se qualcuno ha qualche informazione in più su Ghirassi. Ovviamente benvenga. Illuminateci. Mi raccomando. Qual è lui? Questo qua? Che cazzo ho fatto qui? Cos'è sta cosa? Ma perché? Perché sta roba qua Ghirassi? Ok che ti piace allargare? Sì lo so che ti piace allargare. L'ho già detto. È inutile che continui a farlo. Qui tiri o allarghi? Cosa fai? Niente. Vedi? Quando non allarghi sbagli. Tu devi sempre allargare. Come hai fatto adesso. Sul secondo palo. Che c'è sempre qualcuno che la metta al centro. Va bene ragazzi. Ditemi cosa ne pensate di Seru Ghirassi. Il video finisce qui. Vediamo come andrà a finire questa telenovela Ghirassi. Visto che è stata accostata al Milan. Come vi ho detto. Già da diversi mesi. Per adesso è tutto. Vi lascio un po' di link. Un po' di video. Ci vediamo prestissimo. Ciao.